Questo progetto tra l'altro entra a pieno titolo perché l'abbiamo anche inserito nel dossier di candidatura per Città Europea dello Sport e quindi da questo punto di vista noi come Comune abbiamo ritenuto fondamentale dare un'importanza a questo tipo di iniziativa. Tra l'altro anche in altre città d'Italia è stata inserita nei dossier di candidature a Città e a Torino anche a Capitale Europea dello Sport. Quindi siamo felici che a Cagliari stia nascendo e ci sia questo movimento importante e quindi pensiamo di dare il nostro supporto in tutti i modi che riusciremo. All'interno dell'associazione si è appunto formata anche la squadra Donne in Rosa Dragon Bot. Siamo conosciuti a livello internazionale appunto come Donne in Rosa perché durante le gare noi facciamo anche attività agonistica. Siamo seguiti chiaramente anche da medici sportivi quindi abbiamo anche un certificato medico agonistico e attraverso questa attività che noi appunto partecipiamo a delle gare nazionali e internazionali proprio per portare un messaggio nel mondo di positività. Noi ci poniamo chiaramente come esperienza diretta, cioè noi abbiamo iniziato prima qualche anno fa a praticare la canoa polinesiana. Poi conoscendo le altre squadre abbiamo deciso di aderire per intero al movimento internazionale che ha sede in Canada e quindi facciamo parte di questo grande movimento internazionale. L'International Breast Cancer Paddler Commission ha una bacchecca e attraverso questa bacchecca ci sono tutti gli eventi ai quali noi appunto faremo riferimento per iscriverci alle gare. In Italia siamo presenti in varie regioni, in Lazio, Toscana, c'è il Veneto, c'è l'Umbria, la Sicilia e siamo tutte in contatto attraverso delle mail. Siamo diciamo una grande comunità quindi c'è tra di noi anche il passaggio delle notizie, delle gare, anche l'Open Day, noi lo abbiamo a livello nazionale, è trasmesso la locandina a tutte le altre squadre e c'è un calendario nazionale della federazione e poi c'è il calendario nazionale creato appunto dalle squadre di Donne in Rosa e quindi è lì che poi noi decidiamo attraverso questo calendario alle gare alle quali partecipare. Vogliamo essere come stimolo a tutte le altre donne che hanno avuto la nostra stessa esperienza per dire da donne operate si diventa atlete quindi noi ci presentiamo anche come atlete noi i nostri allenamenti non si differenziano minimamente rispetto agli altri sportivi è questo per dire. Ci alleniamo a Susiku adesso dove appunto la Kitty è qui con noi, è la nostra coach di DragonBot, una delle due, Alessandra Cogurullo oggi non è potuta venire e facciamo due, tre, quattro allenamenti a settimana e ci appoggiamo ai Dragonauti perché noi non abbiamo dragoni di nostra proprietà quindi i Dragonauti mettono a nostra disposizione due dragoni proprio per poterci allenare e quindi per loro chiaramente per noi è importantissimo il loro sostegno. infatti anche nella Locandina, orgogliose del fatto che ci sia a Caglia Recita Europea dello Sport 2017, abbiamo messo in collaborazione con i Dragonauti. Allora qual è la premessa importante di un'iniziativa così estesa e anche così incisiva? Per chi come me si interessa anche di problemi nutrizionali e motori legati all'attività sportiva c'è una premessa importante che è venuta fuori negli ultimi vent'anni. su una affezione del genere, su una patologia così importante ci siamo mossi, cioè se non si è liberi dalla malattia abbiamo cercato di renderci liberi e autonomi nella malattia che è una cosa estremamente importante. Chi vi parla a un'età per ricordare che fino a non pochi lustri or sono, il destino di un malato oncologico era quello passivo, cioè di subire delle terapie spesso molto piatte, incisive e sembrava che tutte le attività extra patologie e extra terapia fossero completamente precluse. Accanto a questo, Ezia, ti dirò che sono ormai dieci anni che i grandi istituti oncologici, soprattutto i quattro grandi istituti associati, Milano, Torino, Roma e Napoli, hanno adottato delle divisioni di medicina estetica legate all'oncologia. Ci sono dei corner anche da questo punto di vista. che cosa significa? Del perché lasciare uomini e donne con una patologia oncologica a un destino ovviamente di solitudine, di infelicità e di abdicare alcune condizioni importanti. Ecco perché l'avvento di questo tipo di iniziativa è estremamente positivo. Questa premessa nel recupero di un'autostima e anche di iniziative diverse non è disgiunta per chi vi parla da valutazione anche di carattere scientifico. che cosa vuol dire? E ne abbiamo parlato direi in misura anche abbastanza intensa con molti degli ospiti che sono qui. L'attività amatoria paga, paga enormemente. Perché sia fatta con regolarità? E che cosa ovviamente comporta? Comporta l'attivazione, soprattutto per alcune patologie oncologiche di origine ormonale, di sistemi protettivi. Ora senza entrare in un dettaglio che potrebbe essere noioso, esistono una serie di proteine, ne cito alcune fra le più importanti, una che si chiama ovviamente una proteina che lega gli ormoni attivanti ai tumori e viene attivata da un esercizio muscolare. Sposta quindi le sostanze oncogene e le porta verso il tessuto muscolare annullandole. Questa è una delle grandi acquisizioni scientifiche direi straordinarie. Ecco perché per grandi numeri amici e amiche presenti, l'attività amatoria ha un aspetto protettivo e preventivo, non solo, ma aiuta anche notevolmente a condizionare lo stesso esito delle terapie oltre che della malattia. Quindi questo che cosa vuol dire? Che c'è un aumento soltanto, non piccolo, di sostanze protettive, ma indirettamente anche un aumento di quello che noi consideriamo l'aspetto più protettivo, l'aumento della massa muscolare. L'aumento della massa muscolare consente di disattivare alcune citochine infiammatorie e attenzione di attivare sistemi di protezione efficace. Oltre, e qui ovviamente poi lascerò la parola agli altri, l'importanza di come il recupero di un'autostima, di una socialità sia estremamente importante. Ecco perché ritorno alla premessa importante di non essere più soli anche nella malattia, ma di condividere questo tipo di condizioni. Attenzione, perché noi spesso anche noi medici facciamo un errore drammatico, facciamo la linea netta fra chi sta bene e fra chi sta male, ma non funziona così, non funziona, è tutta una soluzione di continuo. Spesso oscilliamo e ondeggiamo nelle patologie continuamente, ma in realtà il condividere, il vivere, la reattività ci consente di dire che siamo individui fragili, fragilissimi, ma nulla è più confortante nella fragilità di condividere insieme questo tipo di progetto. E questo mi sembra uno dei piedi di stare più importanti. Grazie.